Com'è andata Presidente? E' andata male. Nel senso? Non si è fatta la festa? Non è una sofferenza, quindi dobbiamo aspettare ancora due partite, dopodiché al risultato acquisito potremo strillare. Perché due partite? Basta vincere a Savona e il Teramo è promosso, oppure pareggiare a Savona, l'Ascoli pareggia e il Teramo è promosso? Ma io non credo alle favore, io credo che una volta che noi abbiamo acquisito il risultato sul campo, a quel punto noi potremmo dire che abbiamo vinto il campionato. A un certo punto? Purtroppo, l'avete visto anche oggi, qui si lotta fino all'ultimo secondo, è giusto così perché è così che si gioca a calcio, a noi non ci si regala niente, nessuno. Però è andata bene così, siamo tutti molto sofferenti, devo andare a ringraziare i ragazzi per l'impegno perché come pesa per noi dirigenti, per tutti i tifosi, pesa anche per loro. Quindi non sono troppo liberi mentalmente. A un certo punto sembrava una partita stregata questa con la palla che non voleva entrare? Ma sembrava stregata, sembrava stregata perché tutti noi volevamo vincere, dovevamo vincere per forza se volevamo continuare a pensare in grande. Oggi i punti sono in macigni, è andata benissimo, sono molto contento. Noi ieri abbiamo fatto una riunione anche tra di noi, dovevamo vincere, lo abbiamo fatto e sono molto soddisfatto. Devo ringraziare veramente tutta questa gente che è venuta qui, si è sacrificata, ci ha applaudito dal primo minuto all'ultimo secondo. E questa vittoria la dedico completamente a tutto il pubblico che è venuto qui allo stadio a tifare Teramo. Veramente gliela dedico con tutto il mio cuore. Si aspetta un altro esodo a Savona adesso? Ma oramai diciamo noi siamo questi. Siamo questi, in casa saremo sempre questi numeri e fuori casa saremo i mille perché più di mille non te ne danno. Quanto è contento oggi da una scala di valori da zero a dieci? Ma non sono contento solo oggi, ero contento anche dieci partite fa, otto partite fa. Oggi sono un attimino più soddisfatto perché abbiamo vinto un'altra partita.